Voglio avere uno Stargate per venire lì da te quando mi va, quando ti va. Nel regno di Zaytankano ci sono gli Stargate che mi porteranno da te, che sei molto lontano. Non ci sono sopprusi né capitalismo, non c'è l'altao, non c'è il razzismo. Zaytankano figlio di Anubi e lo chiamo Panarchiotis con le sue orecchie radars che saltano tutto. Nel regno di Zaytankano è un regno fatto di pigne e di rock'n'roll. Tante pigne e bassoncini, crocantini e bassoncini. Con la Stargate siamo liberi di andare dove ci pare, il costo del trasporto delle merci non c'è più. Così si abbatte una parte consistente del plus valore. Sembrerebbe solo un cane, viene da un'altra dimensione. Dove l'universo è una pigna sopra un bastone, sconfiggerà state padroni. Abbatterà le galere in tutti i ciliei e Zaytankano. Voglio avere il mio Stargate per venire lì da te. Grazie a tutti. Grazie a tutti.